Ciao a tutti, oggi voglio dirvi una verità scomoda. Studiare, scrivere, leggere i libri è un'attività totalmente inutile. Si, avete sentito bene, tutto questo è solo un mucchio di roba ammuffita che non serve a un bel niente. Ma perci dovrei dire una cosa del genere. Beh, è semplice. Quando si tratta di imparare qualcosa, non che niente dimeglio di un bel video su YouTube o una rapida ricerca su Google. Possiamo trovare tutte le risposte di cui abbiamo bisogno, senza doversi impegnare in una lunga e noiosa sessione di studio. C'è fatica, no? E cosa dire delle persone che si impegnano a scrivere libri? Sono solo dei perditempo. Ci ha bisogno di leggere pagine e pagine di parole quando abbiamo film, serie, TV e social media? Ci possono darsi tutto ciò? Ci vogliamo in pochi secondi? Non perdiamo tempo prezioso? Non leggiamo, non scriviamo, non facciamo niente di tutto ciò? Pensatezi bene. Cosa ha fatto per voi l'istruzione fino ad ora? Vi ha aiutato a trovare un lavoro? Vi ha reso più ricci e di successo? Sicuramente no. Quindi perci dovremmo continuare a impegnarsi in questa attività inutile? È tempo di svegliarsi e capire c'è tutto quello che serve e il minimo sforzo per ottenere grandi risultati. Quindi ragazzi, lasciate perdere i libri. Smettete di scrivere e non preoccupatevi di studiare. Concentratevi sulle cose importanti nella vita, com divertirvi e fare ciò che vi piace veramente. Lassiateci gli altri simetano a faticare con gli studi, mentre voi godete della vostra libertà e felicità. In conclusione, studiare, scrivere, leggere i libri. Sono solo attività antiquate e completamente inutili. Non sprecate il vostro prezioso tempo con queste cose. Concentratevi su ciò che è davvero importante per voi. Ricordate, la vita è troppo breve per perderla in inutili spigolature accademiche. Aprite gli occhi e godetevi la vita.